good morning si qui diciamo praticamente sono circa le 11 come dico in questi casi certo non proprio la mattina prestissima mattinata non il trato ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david david lynch it's june june 5 2022 and it's a sunday here in naples middle morning in this moment where it's here right now 87 and 6 fahrenheit around 32 celsius and this means that it's a day really 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 soft like this day in this period and also well because it seems more a summer climate than spring climate all'altra parte stiamo andando verso l'estate manca poco e quindi questo è anche normale as riguarda il periodo 7 noi falduit but if i do it in the case is always separated from this so as always size open if you are interested anyway as he and you all just see from the window you can see anything because as i say in these days we can show we show the green roller shooter rispetto alla curtemicus per far reaggiare di più visto che siamo praticamente estate e quindi far passare più aria questo motivo principale ma poiché si vede dai loro riflessi credo come sto dicendo qualche giorno as you can see from the sunglasses io credo salirà ovviamente insomma andiamo anche su questo ma vedremo atta the really important thing with this atmosphere is that today or maggio e pomeriggio praticamente we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful beautiful those guys and golden sunshine and I think all along the way ovviamente qui all along the way sempre qualcuno a meno intendo soprattutto pensando ai nostri amici americani perché come sapete qui abbiamo un orale completamente diverso rispetto a voi comunque bene così giugno che si sta rivelando veramente come maggio che abbiamo avuto presente dei bisogni sull'buscast in golden sunshine quasi tutto il mese io credo con questa tendenza sarà così anche per giugno ma del resto da quando almeno sono al mondo io da che ricordo praticamente l'estate è quasi sempre così c'è sempre quasi sempre il sole rispetto alle nuvole almeno questo è quello che ho sempre saputo io in tutto il mondo per cui sperando di continuare così anche domani per cui say that it is so from the mythical window with the orange red blooming water curtain behind me in this day and this almost in the summer praticamente è già quasi estate comunque è quasi tutta l'estate sarà così ma ho già ripetuto in questi giorni and it's green roller shooter roller shooter behind me cioè near me in this day come ho detto in summer in all the summer yes and finally from a mythical keyboard amati gx 640 ipg ipg 625 evo a great day in mondo people follow the channel dei riporti un saluto da tutti e indolso i hope you will have a great breakfast io la farò tra poco il mio sommato ha bruntolo come sempre non so se lo sentite ma soprattutto spero possiate consolarvi alla vostra bella colazione se il tempo deve essere brutto alle vostre parti ripeto non che non ci consoliamo sempre anzi anche quando c'è tra l'altro la curiosità che in italiano le due parole consolazione e colazione fanno anche rima ma io personalmente quando il tempo è brutto l'atmosfera che c'è spinoso mi consolo ancora di più quando faccio la colazione si i'll see you in the video too if i'll do it or tomorrow or